PRINC, la catena specializzata in cartucce per stampanti. PRINC, risparmi e stampi il doppio. Il 9 luglio alle ore 21, al centro dello G, serata finale della 44esima edizione del premio letterario internazionale Raffaello Brignetti. Alla serata parteciperà il vincitore di quest'anno, scelto dalla giuria popolare e quella letteraria tra i tre finalisti. Due scrittori italiani, Diego De Silva con terapia di coppia per amanti e Rosa Matteucci, Costellazione familiare. Il primo è edito da Inaudi, il secondo da Adelfi. E poi uno scrittore spagnolo che si chiama Javier Cercas, che ha scritto molti libri, fra cui questo è l'ultimo, L'Impostore. E diciamo che è uno scrittore molto noto anche a livello internazionale. I libri sono tutti e tre molto interessanti, anche se di argomenti molto diversi, perché uno parla, come dice il titolo, terapia di coppia per amanti, quindi chiaramente è un tema molto di attualità, che è il problema di una coppia che si prende e si lascia, come problemi di vari. E il libro della Matteucci, invece, Costellazione familiare, è ancora un problema familiare, questa volta tra madre e figlia, incomprensioni, liti, amori e poi, diciamo così, problemi anche gravi di salute, che si risolve poi in ogni caso in modo positivo. Il libro di Cercas, invece, è una ricerca abbastanza, diciamo, approfondita su un episodio avvenuto in Spagna, di uno, diciamo, di un personaggio che si è inventato addirittura completamente una vita, ecco, perché il titolo, l'impostore, dicendo di essere un reduce dai campi di concentramento nazisti, mentre invece non era affatto vero. Quando a un certo punto uno storico lo scopre, su questo si imposta tutta una ricerca dello scrittore, il quale esita, se scrive o no, di questo argomento, poi alla fine decide di scriverlo e quindi è un libro molto, diciamo così, approfondito su temi anche importanti, anche storici, ma anche personali. E poi un premio speciale ad uno scrittore, il Bano. Quest'anno è Luciano Gelli, conosciuto da tutti, medio, ora in pensione, che è cominciato a scrivere libri e non si ferma più. E noi abbiamo pensato che forse dare un premio a lui come nell'insieme della sua opera fosse una cosa abbastanza veritoria, come si fa da un po' di tempo per qualche scrittore che è nato all'Elba e che scrive anche dell'Elba. Professor Brandani, ormai siamo alle battute finali anche di questa 44esima edizione del premio. Sabato prossimo, la serata finale, si decreta il vincitore. Quindi un premio che continua il suo viaggio e continua a far parlare di sé e a catturare l'attenzione di chi ama la cultura e la lettura. Sì, siamo alla 44esima edizione. Naturalmente c'è stato un grande lavoro tutto l'anno, che poi si consuma e si brucia, se vogliamo, in una serata. Quest'anno abbiamo poi anche una cosa un po' particolare, perché sotto il patrocinio del Comune di Portoferraio, che ci ha sempre assistito, debbo dire, noi abbiamo sabato 9 luglio alle 21 la premiazione del vincitore del premio Pirignetti e il giorno dopo, alle 18.30, la inaugurazione della grande mostra di Italo Bolano, Blu Isola. Quindi un binomio di letteratura e pittura che credo dia un connotato particolare a questo weekend in tutta la Toscana. Per tornare a noi abbiamo sempre continuato nella linea che i nostri appassionati sanno, e cioè di un premio silenzioso, ma molto attento ai valori europei e a conciliare cultura, passione civile. Se un autore dovesse per caso vincere, i lettori si appassioneranno al dilemma, ad esempio se la menzogna è sempre criticabile o se la menzogna a fin di bene può essere assolta. Ma di questo parleremo nella serata successiva. Oltre alla terna dei finalisti e all'opera vincitrice, l'attenzione è anche per il trio che sul palco presenterà la serata. Sì, noi abbiamo veramente grande qualità, per usare un termine calcistico che di questi giorni si addice, perché Lisa Marzuoli, che è la presentatrice, è giornalista del Tg2 ed ha avuto in questi giorni un importante ulteriore riconoscimento perché andrà a dirigere e gestire un talk show giornalistico sul Rai 1. Quindi veramente noi abbiamo visto con occhio lungo, direi. Poi abbiamo Valeria Altobelli, che è una special guest d'eccezione, veramente una donna che sa fare di tutto, nel senso che parla molte lingue, è brava, scrive, canta, balla, veramente una presenza. E abbiamo il nostro, il Bano Doc, Guidara, che ormai per noi è una presenza rassicurante, che venendo dal mondo dei media, perché è direttore della comunicazione di un grande gruppo di consulenza, ci darà anche lui un apporto. Secondo noi questa formula è di qualità e nella tradizione, tradizione e qualità.